Urgente a Milano! Una notizia bomba di mercato ha sorpreso tutti. Mamma mia, quasi non riesco a credere a queste informazioni appena pubblicate dai media italiani, perché nessuno si aspettava questo possibile ingaggio appena reso noto. Oggi ho una notizia scottante ed esclusiva che sta scuotendo il mercato dei trasferimenti e che potrebbe portare grandi novità per il nostro acquisto al Milan. Prima di tutto, non dimenticate di mettere i mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornati su tutte le novità della nostra squadra. Mats Hammels è stato offerto al Milan e alla Roma in vista della stagione 2024-25, con l'obiettivo di lasciare il Borussia Dortmund in trasferimento libero a fine mese. Tuttavia, secondo quanto riportato, i rossoneri non sono interessati. A 35 anni, Hammels è ancora un ottimo difensore centrale e lo ha dimostrato nella finale di Champions League contro il Real Madrid. Il suo contratto scade a fine mese e i suoi agenti stanno lavorando sul futuro, con diverse opzioni possibili. Secondo quanto riportato da Sky Italia, gli agenti del centravanti hanno offerto i suoi servizi a diversi grandi club, tra cui Milan e Roma. I rossoneri hanno già fatto sapere di non essere interessati, mentre i giallorossi stanno valutando l'operazione allo stato attuale. Da notare che gli agenti chiedono una commissione elevata, mentre la richiesta di stipendio di Hummel non è bassa, secondo quanto riportato. Resta da vedere se la squadra di Daniele De Rossi considererà il trasferimento fattibile, ma il Milan ha già preso una decisione. Hammels sarebbe stato sicuramente un buon acquisto, soprattutto considerando le difficoltà difensive della scorsa stagione, ma non a tutti i costi. Commentate qui sotto, tifosi, cosa ne pensate di questo possibile ingaggio di Hammels per rafforzare la nostra difesa? Lasciate la vostra opinione nei commenti. Non dimenticate di mettere i mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Forza Milan!